Martina Crosta, una partita veramente intensa, giocata ad alti ritmi, era il risultato che aspettavate? Sicuramente abbiamo lavorato tanto per questa partita, non ci aspettavamo questo risultato, peccato per gli ultimi minuti che abbiamo perso un po' di vantaggio, però abbiamo lavorato tanto per questa partita e credo che abbiamo fatto una buonissima prestazione e speriamo che domani riusciamo a portare a casa di nuovo la partita. Da dove si riparte domani? Domani si riparte dalla difesa e secondo me dalla difesa, poi in attacco bisogna aggiustare qualcosa ma direi che di più in difesa.